Pronto a meteo.it le previsioni del tempo di Marcello Poggi e Gabriele Campagnoli ben ritrovati vedete qui la situazione il campo con tutta questa pressione che ha portato anche piogge temporali al nord si è spostato prima al centro soprattutto al sud e adesso si è spostato ancora più a est di conseguenza noi godiamo di un cielo che è tornato sereno poco nuvoloso vedete anche qui le province di Pavia, di Milano e di Alessandria non hanno più tutta questa perturbazione che ha portato le piogge nelle passate ore e anche il radar dei fulmini lo sta a dimostrare. Per quello che riguarda le mappe delle pressioni e fronti anche qui il campo sta lasciando tutta la nostra zona che si sta riversando appunto nella parte nord-est e poi anche a sud avete sentito della Sicilia la tromba d'aria ieri sera i nubifragi che ci sono stati il meteo invece con le cartine di Piemonte e Lombardia ci riporta appunto a qualche nuvola ma nel complesso il sole c'è e allora vediamo dopo questo mercoledì da dimenticare il giovedì che c'è stato e la stessa situazione si avrà anche per venerdì e anche per sabato qualche passaggio nuvoloso specie fino al mattino ma sole ben presente e temperature tra 8 e 20 gradi per una tendenza che va ad una seconda parte di settimana sicuramente più fresca, più tipica di fine ottobre con minime anche sotto i 10 gradi in caso di cieli sereni ma a una condizione di stabilità quindi per parecchi giorni godremo di questo cielo sereno poco nuvoloso anche se più fresco rispetto alle settimane passate d'altronde siamo a ottobre ormai inoltrato queste le previsioni del tempo di ProntoMeteo.it al cura di Marcello Poggi e Gabriele Campagnoli grazie per essere stati con noi al prossimo aggiornamento grazie a tutti 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 grazie a tutti